Ciao a tutti ragazzi da Studio Camorrine, mi trovo qui a Porta Palazzo, al mercato di Porta Palazzo e ci tenevo a immortalare a questo momento, in quanto sono a Torino, ma sembra di vivere una passeggiata a Ballaro di Palermo, veramente tantissima frutta siciliana e ortaggi siciliani, veramente a buon prezzo, straordinario, molto pop e veramente molto visitato. Abbiamo praticamente qui l'uva siciliana, fichirindi a siciliani, veramente tanti 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 prodotti a disposizione, tutto alla portata di tutti, prodotti freschissimi, pulitissimi, come dicevo veramente a bassissimo costo. Io mi trovo qui entusiasmato di tutto ciò, non mi resta che darvi un caloroso abbraccio, un saluto da Studio Camorrine, ciao!